Verbo andare, gehen, il presente indicativo, presenza, io vado, ich gehe, tu vai, du gehst, tu gehst, lui va, er geht, lei va, si geht, noi andiamo, via gehen, wir gehen, voi andate, ihr geht, loro vanno, sie gehen, sie gehen, sie gehen. La prima persona singolare dell'imperfetto, io andavo. La prima persona singolare del passato remoto, io andai. Sia l'imperfetto che il passato remoto vengono tradotti in tedesco dal preteritum. Io andavo, ich ging, ich ging, ich ging. Tu andavi, du gingst, du gingst, du gingst, du gingst, lui andava, er ging, er ging, er ging. Lei andava, sie ging, lei andava, sie ging, sie ging, noi andavamo, wir gingen, wir gingen. Voi andavate, voi andavate, ihr gingen, ihr gingen, ihr gingen. Loro andavano, sie gingen, sie gingen. La consonante g a fine frase in molti casi non viene pronunciata. In alcuni casi si pronuncia k. Facciamo degli esempi. Sentiero si scrive veg, ma si pronuncia veck. Esame, si scrive prufung, ma si pronuncia prufung. Adeguamento, si scrive einstellung, ma si pronuncia einstellung. Anche nel declinare, ovviamente, il verbo andare, la g finale non viene pronunciata. Ad esempio, io andavo, si scrive, ich ging, ma si pronuncia ich gingen. Anche la g all'interno di una parola, se preceduta dalla consonante n, non viene pronunciata, ma c'è anche chi la pronuncia lievemente. Ci sono alcune parole che fanno eccezione, ad esempio la parola ingegnere. In questo caso, non solo la g viene pronunciata, è ben scandita, ma si pronuncia con il suono j. Ingegnere, ingegnere. Esempi. Noi andammo, si scrive, wir gingen, ma si pronuncia, wir gingen. Andatura, si scrive, gangart, ma si pronuncia, ganaat. Inseriamo la parola andatura all'interno di una frase. Credo che dobbiamo accelerare la nostra andatura. Io penso che noi, nostra andatura, accelerare dovere. E' importante ricordarsi anche che la g all'interno o all'inizio di una parola quasi sempre viene pronunciata con il suono g, ad esempio Ho inserito in questo video altre voci oltre la mia. Sono le voci di due madrelingua. In questo modo avete la possibilità di ascoltare la coniugazione del verbo andare da tre voci diverse. La prima persona singolare dell'imperfetto, io andavo La prima persona singolare del passato remoto, io andai Sia l'imperfetto che il passato remoto vengono tradotti in tedesco dal preteritum Io andavo, ich ging. Tu andavi, du gingst. Lui andava, er ging. Lei andava, sie ging. Noi andavamo, wir ginnen. Voi andavate, ihr gingst. Loro andavano, sie gingen. Participio passato, andato, gegannan. Passato prossimo, perfetto. Io sono andato, ich bin gegangen. Tu sei andato, du bist gegangen. Lui e andato, er ist gegangen. Lui e andato, er ist gegangen. Sie ist gegangen. Sie ist gegangen. Noi siamo andati, wir sind gegangen. Wir sind gegangen. Wir sind gegangen. Voi siete andati, ihr seid gegangen. Ihr seid gegangen. Loro sono andati, sie sind gegangen. Loro sono andati, sie sind gegangen. Sie sind gegangen. Sie sind gegangen. Ripetiamo il participio passato. Andato si scrive gegangen, ma si pronuncia gegangen. L'ultima g viene appena accennata, o ancora meglio omessa. Infatti nel coniugare il verbo andare, e quindi anche il participio passato, io vi consiglio di ometterla. Quindi l'ultima g, quella preceduta dalla n, non la pronunciate. Andato, gegannen. Io sono andato, ich bin gegangen. Fate allo stesso modo di come non si pronuncia la g alla fine di una parola. Io andavo, ich ging. Io sono andato, ich bin gegangen. Io vado, ich geh. Io andavo, ich ging. Io sono andato, ich bin gegangen. Futuro semplice, Futuro eins. Io andavo, ich werde gehen. Tu andai, du wirst gehen. Lui andrà, er wird gehen. Lei andrà, sie wird gehen. Sie wird gehen. Noi andremo, wir werden gehen. Wir werden gehen. Voi andrete, ihr wirst gehen. Ihr wirst gehen. Ihr wirst gehen. Loro andranno, sie werden gehen. Sie werden gehen. Futuro anteriore. Futuro 2 Io sarò andato. Ich werde gegangen sein. Tu sarai andato. Du wirst gegangen sein. Lui sarò andato. Er wird gegangen sein. Lei sarò andata. Sie wird gegangen sein. Noi saremo andati. Wir werden gegangen sein. Voi sarete andati. Ia vedet gegangen sein. Loro saranno andati. Sie werden gegangen sein. Il condizionale presente e il congiuntivo imperfetto vengono tradotti dal preteritum del conjunctiv 2. Condizionale presente io andrei. Congiuntivo imperfetto io andassi. Io andrei. Ich gina. Ich gina. Tu andresti. Du ginasst. Du ginasst. Lui andrebbe. Ea gina. Ea gina. Lei andrebbe. Sie gina. Sie gina. Noi andremmo. Vi a gina. Vi a gina. Voi andreste. Ia gina. Ia gina. Loro andrebbero. Sie gina. Sie gina. GMA. Ia gina. Imperativo. Imperatif. Va. Vai tu. Ghe. Andiamo. Andiamo noi. Ghen via. Andate. Andate voi. Ghe. Vadano. Vadano loro. Ghen si. Grazie per la visione!